In tutto il mondo stiamo in questo momento verificando quali sono i cambiamenti necessari da apportare ai sette principi della cooperazione. L'ICA, che è l'associazione che racchiude tutte le cooperative e le associazioni del mondo, sta confrontando i nostri sette principi sulla sostenibilità. C'è un grande cambiamento dal clima all'innovazione tecnologica, la transazione digitale, la sostenibilità del welfare e quindi ci sembra giusto dopo più di un secolo verificare se i nostri principi sono ancora validi e quindi la cosa meravigliosa che in queste settimane in tanti paesi del mondo, dove i cooperatori sono circa un miliardo, stiamo verificando assieme questi principi. Con l'occasione dell'incontro tra le iniziative che sono state fatte prima a Milano, oggi replichiamo a Palermo un'iniziativa importante che lega il nord e il sud del paese perché sono accomunati dallo stesso problema dal punto di vista dell'emergenza climatica ma soprattutto dalla stessa visione cooperativa nel dare un contributo ai principi cooperativi e un contributo soprattutto a come mettere insieme le nostre energie, le forze e le passioni per risolvere uno dei temi più importanti che sono la sostenibilità dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. L'impegno del movimento cooperativo italiano, di Lega Coppia in particolare, è quello di rivisitare i principi cooperativi ma soprattutto di vedere nella contemporaneità un'attenzione particolare al mondo sociale, al mondo economico e anche al contributo verso il bene collettivo.